Una carica che mi dà tanta responsabilità, tanta voglia di fare dopo un certo periodo di stasi per diversi motivi. La cosa che mi piace sottolineare, l'ho fatto circa due anni fa in una trasmissione televisiva in tempi non sospetti, che virtualmente vorrei aggiungere una terza S, Unione Stampa Sportiva e Sociale Italiana, cioè dare valenza, validità e importanza anche allo sport come sport di base, non soltanto i grandi eventi sportivi, non soltanto i campioni ma anche la valenza sociale dello sport di base, sottolineare con un'attenzione particolare quella che è la condizione degli impianti sportivi, non soltanto in città, in tutta la provincia. La rilevanza sociale dello sport sarà sancita ben presto anche dalla Costituzione italiana, perché sarà modificata dando appunto un risalto importante a quella che è l'attività della promozione della pratica sportiva, che ribadisco ha una importante funzione sociale sempre di più, soprattutto in aree marginali, a rischio delle nostre città. Sicuramente un'attenzione particolare alla formazione, anche noi proporremo all'ordine dei giornisti dei corsi di formazione per quanto riguarda la specificità del settore dell'informazione sportiva, il codice deontologico e anche affrontare in modo adeguato gli impegni più importanti nel calendario sportivo catanese. In particolare un appuntamento che ha una valenza importante anche dal punto di vista emotivo è quello del 14 aprile quando ricorderemo il povero ciclista Sant'Esteban morto in un incidente proprio a Daci Sant'Antoni in occasione di un giro d'Italia e andremo a commemorarlo nel monumento che ricorda la sua scomparsa, il punto dove purtroppo è caduto perdendo la vita. Ed è anche un momento che poi affronteremo in modo più ampio per ricordare e parlare di sicurezza stradale dal punto di vista della pratica sportiva ma anche dei comportamenti di normale civiltà che vanno attuati in ogni circostanza. Naturalmente la squadra del direttivo dell'Ussi è composta da altri colleghi. Ricordo innanzitutto il vicepresidente Nunzio Currente, il segretario Enzo Stroscio, Lucio Di Mauro, Luigi Saitta, Gianluca Virgilito, Max Licari e Alessandro Fagalà.